Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse. Questo sarà il libro di Apocalisse capitolo 11. Prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al padre Yahawa nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore Yahawa Shai. Con lui che in mondo dall'ignoranza chiama Gesù. E miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone per avermi insegnato questa verità. E come sempre saluti e pace alla casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano questa verità e a coloro che stanno lavorando nella vigna in questi ultimi giorni. I miei saluti. E quando dico la vigna intendo la terra in generale, il mondo, ok? E coloro che lavorano sono i suoi profeti, i profeti del padre, Yahawa, che stanno portando questo messaggio affinché arrivano nei quattro punti della terra, ok? Io consiglio sempre di guardare, ho fatto una playlist del libro di Apocalisse, per capire sempre a profondità questo libro, bisogna che guardate dall'inizio tutte le serie, soprattutto la prima, che è la prima guerra mondiale registrata nella Bibbia. Basta andare sulla playlist che ho creato per avere più capienza, ok? Perché Giovanni gli è stata data questa visione quando è stato esiliato nell'isola di Pratmo, che si trova nelle isole di Grecia, ok? Sì, è passato il resto della sua vita là. E una cosa che dovete capire del libro, delle scritture in generale, soprattutto quando si parla delle visioni che hanno avuto questi profeti, parlo di Isaia, Geremia, Mubbadia, Naum, Zeccaria e soprattutto questa visione che ha avuto Giovanni. Cioè, non parlava in cronologia del tempo, cioè, vedeva un periodo, tornava dietro, andava avanti, tornava dietro, perché il padre ha voluto farlo così, perché dobbiamo studiare noi, per capire queste cose qui, come si è stato detto nel libro di secondo Temoteo, capitolo 2, versetto 16. Studia per farti approvato davanti al padre, Yehawa, ok? Perciò, iniziamo ora, leggendo. Poi mi fu data una canna adatta a misurare, ok? Anzi, leggiamo la versione più facile, la nuova riveduta, 2006. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, alzati e misura il Tempio di Yehawa e l'altare, e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno nel Tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali capestreranno la città santa per 42 mesi, ok? E qui sta parlando delle scritture, in realtà, ok? E con loro, ricordatevi che c'è il versetto che dice che con loro, è sempre nel libro di Apocalisse, mi sa, nel versetto 17-18. Ora non voglio, perché ne ho altre scritture da farvi vedere, che dice, i nomi dei santi si trovano nel libro della vita, ok? Ed è più o meno la stessa cosa. E ha detto di lasciare fuori, infatti, questi sono i nemici, le altre nazioni. Se guardiamo un'altra versione delle scritture, questa, per esempio, dice, Non misurarlo, perché è stato lasciato per i nemici di Yahweh, avete visto? Perciò, dice di non misurare coloro che in loro nomi non si trovano nel libro della vita, che è la scrittura, non possono partecipare nel regno avvenire di Yahweh Shai, ok? O meglio, il regno saremo noi a comandare sotto Yahweh Shai, ok? Coloro che, i loro nomi si trovano nel libro della vita, saranno i governatori del nuovo regno, ok? Sotto Yahweh Shai, ok? Perciò, dice, Per 42 mesi essi capestreranno Gerusalemme, la città santa, ma ai miei due testimoni darò la possibilità di annunziare la mia parola per 1260 giorni, vestiti a luto con ruvido pano. Questo sta parlando del tempo di medioevo, ok? E se guardate, ricordatevi, d'accordo al primo Petro, che un giorno per i padri sono mille anni, perciò, se calcolate qui, sono 3.000 e mezzo anni, ok? Andando dietro di tempo, si arriva al tempo di medioevo, ok? E, sì, a quel tempo c'erano, c'erano, diciamo, c'erano i profetti, perché per capirne di più la rincarnazione, andate a vedere i video che ho fatto sulla rincarnazione, quando uno muore, non è la fine, torna di nuovo, ok? Torna di nuovo qui, ok? Perciò, tanti profetti si sono rincarniti e ritornati. Per capirne di più, perché ora non sto tirando fuori le scritture, basta andare a vedere le lezioni che ho fatto riguardo la rincarnazione biblica, ok? E andiamo avanti. I due testimoni sono i due ulivi e i due candelabri che stanno di fronte al Signore Yahweh della terra. Se qualcuno tenterà di far loro del male, dalla loro bocca uscirà un fuoco e distruggerà i loro nemici. Così morirà chiunque cerchi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo e di impedire che piova per tutto il tempo che annunziano la parola di Yahweh. Possono anche cambiare l'acqua in sangue e colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che vorranno. E questo non sta parlando altro che i suoi profetti, come avevo detto. Si parla di Mosè, di Elia, ok? Questa gente qui, questi profetti sono potenti. Sta parlando di questi, ok? Anzi, qui vi tiro fuori un precetto qui. Qui parlavo del tempo di Medioevo, no? Che riguarda il santuario, ok? Andiamo a vedere cosa è successo nel libro di Secondo Maccabèi. Secondo Maccabèi. Capitolo 5. Versetto 19. Perdonatemi che devo tornare dietro, giusto per farvi capire sempre di più. Inizio leggendo dal 17. Io consiglio di andare a leggere questi libri di Maccabèi che contengono un sacco di storie. Anzi, ecco perché li hanno eliminati da tutte le altre versioni della Bibbia. Perché contengono delle verità che vi apriranno gli occhi. Antioco era uno stirpe dei malvagi, no? Che ha preso il regno sulla zona di Egitto, ok? Lui era, diciamo, il figlio di Ptolemia, che era uno dei generali di Alessandro, Alessandro Magno, ok? E ricordiamoci, leggendo sempre da questo libro, che quando sono andati in potere, la malvagità si è espanso in tutta la terra, ok? Basta andare a vedere chi sono i veri malvagi e li vedrete. Antioco era così superbo da non capire che Yahweh aveva abbandonato il Tempio solo per un breve periodo, perché si era adirato a causa dei peccati del popolo. Allora, Yahweh aveva abbandonato il Tempio dei suoi, perché questi qua venivano sempre a saccheggiare in Israele, non volevano far rimanere il nome di Israele, volevano sterminare i veri ebrei, come hanno tentato sempre. Volevano sterminare i veri ebrei e mettersi in posizione lì, in quella posizione, ok? Se il popolo non avesse commesso tanti peccati, il re Antioco, appena arrivato, sarebbe stato subito abbattuto e respinto nella sua impresa temeraria. Era capitato così anche a Eliodoro che il re Seleuco aveva mandato a saccheggiare il tesoro del Tempio, ma il Signore non aveva scelto il popolo per il Tempio, bensì il Tempio per il popolo. Per questo anche il Tempio dovete subire le stesse disgrazie del popolo, ok? Per poi partecipare ai suoi trionfi, ok? Spero che sia chiaro là. Il nostro Tempio, che è il nostro corpo, è il Tempio del Padre, ok? E siamo passati al Tempio, siamo passati al Tempio del corpo, dopo la morte, dopo il sacrificio del suo figlio, Yahweh Shai, ok? Dopo il suo sacrificio, ricordatevi che appena è morto, c'è stato il terremoto e si è spezzato la tenda del Tempio e quello era il segno che era la fine del Tempio fisico, ok? Di quella era là. Ora si è passato alla nuova ordinanza che è il Tempio e è il corpo di ognuno, ok? Ognuno di noi, ok? Perciò il Padre non dimora più nei tempi di sassi, di costruzione delle mani dei uomini. Quell'era è stata finita dopo la crucifissione di Yahweh Shai, suo figlio, ok? Il segno è quello quando il Tempio, la tenda del Tempio è stata spezzata e sono cadute cose, è successo altro, basta andare a leggere. E si è passato al Tempio che è il corpo, ok? Ora torniamo qui. Poi, mi fu data una canna adatta a misurare con questo ordine. Alzati, alzati, misura il santuario di Yahweh e l'altare e conta le persone che adoreranno nel santuario. Il cortile esterno del santuario però non misurarlo perché è stato lasciato per i nemici di Yahweh per 42 mesi e si capesteranno a Gerusalemme, la città santa, ma ai miei due testimoni darò la possibilità di annunziare la mia parola per 1260 giorni, vestiti a luto, con ruvido pano. I due testimoni sono i due ulivi e i due cannellabri che stanno di fronte al Signore della terra, Yahweh. Se qualcuno tenterà di far loro del male, dalla loro bocca uscirà un fuoco e distruggerà i loro nemici, così morirà chiunque cerchi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo e di impedire che piova per tutto il tempo che annunziano la parola di Yahweh. Possono anche cambiare l'acqua in sangue e colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che vorranno. E questi, come vi avevo detto prima, stanno parlando dei profeti suoi. Si parla di Mosè, Elia e gli altri, ok? Quando poi avranno finito di annunziare la mia parola, il nostro, il mostro che sale dal mondo sotterraneo li assalirà. Il mostro che sale dal mondo sotterraneo li assalirà. E questo non sta parlando altro che il rinascimento. quando i figli dei malvagi sono ritornati in potere. E si parla degli anni, diciamo, era dal fine 1400, 1500, diciamo, ok? Il tempo di rinascimento, 1500, dai 1500 al 1600. Quando i figli dei malvagi, i figli di Esau, sono ritornati. Ok, vediamo un'altra versione, versione, cosa dice. Essi hanno di... Hanno pure... E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, ok? Sta parlando proprio della bestia che sale dall'abisso. E ho fatto un video riguardo questo, molto profondo, che è... che è... la prima guerra mondiale è registrata nella Bibbia. Perciò è la prima di queste serie, del libro di Apocalisse. Ecco perché è molto importante vedere quella... quella serie là, perché c'è anche immagini per farvi capire molto di più, ok? E sta parlando proprio di William, ok? Keisa, i figli dei malvagi, quando sono rientrati, ok? Loro si rappresentano la bestia che sale dall'abisso. L'abisso si parla di Europa, ok? Farà guerra contro di loro. Li vincerà e li ucciderà, ok? Sì, questi qua entreranno in potere e cominceranno a uccidere i santi, no? Prendere di nuovo il controllo di Roma, perché Roma ha perso il potere nelle mani dei figli di Israele, ok? I figli di Israele, durante il tempo che regnavano, si chiamava il tempo, il tempo di rinascimento, è o no, il tempio di Medioevo. Poi c'è stata un'altra guerra dall'interno, ok? Con l'astuzia, ok? Tutto con la volontà del padre, perché i figli di Israele che avevano preso controllo di Roma facevano peggio anche, ok? Adoravano altri dei, erano pagani. Perciò il padre, quando ti mette in posizione e tu non fai le cose come dovresti farlo, prende e lo dà a qualcuno altro. Ha preso il regno e l'ha ridato ai figli dei malvagi. Quando i figli dei malvagi sono entrati, hanno nominato il momento di rinascimento. Rinascimento di cosa? Ok? Perché hanno ripreso il potere, il regno, ok? E quel tempo di rinascimento hanno fatto un sacco di abomini e il momento che hanno cominciato a cambiare le facce dei giudici, dei veri israeliti, è il momento che hanno cominciato a pitturare Yahawashai come un caucaso che era un negro, è il momento che hanno cominciato a cambiare diverse cose. Vedete tante statue dei emperi, dei cesari, e li hanno tagliato il naso. E vedete proprio perché hanno fatto questo? Perché erano i figli di Israele in comando, erano negri, i mori, così chiamati mori. Erano loro che governavano in Roma. Lo chiamano i tempi scuri, i momenti scuri, perché in inglese si chiamano i Dark Ages, perché erano i mori in comando, in controllo dell'Europa. Ecco perché trovate tante statue in musei con le labbra tagliate, con il naso tagliato. Tutto questo per nascondere la verità. E hanno cominciato a fare delle nuove statue, degli angeli che sembrano dei froci, bambini nudi, queste cose qui. E quando sono entrati in potere i figli di Esau, hanno cominciato a fare questi figli dei malvagi. Leggiamo. Gli uomini dei fari po', anzi, contro di loro li vincerà e li ucciderà. I loro cadavri, ok? I loro cadavri ghiacceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma e Egitto. Questa città è America. Comunque, per darvi un progetto di quello che facevano durante il tempo di Rinascimento, andiamo a vedere il libro. Il libro di... Anzi, andiamo a questo. Andiamo a vedere il libro di Maccabè. Maccabè. Perdonatemi un attimo. Il libro di Maccabè. Primo Maccabè, capitolo 3, versetto 48. Ecco, a differenza dei pagani che domandano oracoli all'estato dei loro idoli, aprirono il libro della legge per consultarlo, portarono anche le vesti dei sacerdoti. Ah, vedete che comunque qui hanno cambiato le parole. Ok? Perché la vera cosa che sarebbe scritto qui aprirono il libro della legge e hanno messo la similitudine del loro viso. Ok? Sul viso dei veri israeliti. Ok? Perché la legge è stata data solamente agli israeliti. ok? Hanno fatto un sacco di abomini. Fecero venire avanti anche i nazarei che avevano finito il tempio del loro voto e invoceranno Dio con forti grido. Dicevano dove potremo condurre queste persone a scoglierli il loro voto. Cioè, hanno fatto un sacco... Vi consiglio comunque di andare a leggere questo libro, ma ora vedo che c'è stata una manipolazione qui. Ok? C'è stata una manipolazione. Perciò io vi consiglio anche di imparare un po' di inglese. Così andate nell'altro testo. A parte che gli apocrifi qui non sono completi. Ok? Sono stati tolti un bel po'. Ok? Il secondo libro di Esdra è stato tolto e altri libri sono stati tolti. Ok. Perdonatemi un attimo. Anzi, ora andiamo a vedere. Ci dovrebbe essere anche Giove capitolo 9 il versetto 24 che dice La terra è data in baglia dei malvagi e livella gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui chi è dunque? Ok? La parola che cerco lì è copre il viso dei giudici. Vediamo. se il governo dei paesi è in mano di un malvagio chi è altro se non Dio mette in... Mamma mia. Sono davvero 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 perdonatemi sono davvero manipolati le scritture in italiano. Andiamo a vedere. Versione riveduta. La terra è data in baglia dei malvagi e livella gli occhi ai giudici di essa se non è lui chi è dunque. Vediamo un'altra versione se per caso a Dio dati. La terra è data in mano all'empio il quale copre la fa... Avete visto? Vedete il motivo perché dovete dovete guardare diverse versioni e avere lo spirito perché perché in Italia il Vaticano ok i serpenti là hanno fatto di tutto per nascondervi la verità ok ci vuole lo spirito dovete ascoltare gli insegnamenti per capirne di più vedete perché dovete vedere diverse versioni che questo sarebbe la giusta cosa che la terra è data in mano all'empio che sono i malvagi il quale copre la faccia dei giudici di essa e come fa a coprire la faccia dei giudici mettendo l'immagine sua come ha fatto anche con l'immagine del figlio del padre ok lui ha tolto l'immagine vera che era di carnagione scura era un era un 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 negro e ha messo invece la faccia di Cesare Bogia ok perciò è molto importante che voi fate diverse guardate diverse versioni per per capire questa cosa qui queste cose qui ora torniamo il libro di Apocalisse e si eravamo capito 11 bene spero di avere e quando avevano finito la loro testimonianza la bestia che sale dall'abisso farà guerra con loro e li vincerà e li ucciderà ok questo sta parlando del tempo della seconda guerra mondiale anche e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della gran città la quale spiritualmente si chiama Sodoma Egitto questa città è America dove ancora è stato crocifisso il signor loro e li e anzi quello che sta dicendo qui non è che i loro corpi cadavere realmente perché senza la verità siamo dei zombie siamo dei cadavere basta andare a vedere i video che ho fatto riguardo sei uno zombie senza la verità perché lì vi fa capire che senza la verità siamo degli esseri morti come dice Ezechiele ok siamo degli esseri morti ed è quello che è successo qui li hanno preso controllo hanno sparso hanno ucciso tanti ok hanno tolto la verità hanno cambiato cose e questi qui sono diventati come dei zombie vedete i ragazzi con i pantaloni sotto sotto il sedere a spacciare a fare queste sono dei zombie alla fine questi ragazzi drogati diverse cose sono dei zombie questo è quello che sta dicendo qui ok senza la verità sei proprio un cadavere e gli uomini di fra i popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti lo spazio di tre giorni e mezzo ok tre giorni per il padre sono tre mille anni ok e mezzo infatti tutto quel tempo dal tempo del rinascimento siamo stati in tenebre ok la verità è stata cambiata tanti sono venduti in schiavitù in America nelle Americhe portati là perciò camminavano andavano su e giù senza la verità erano corpi morti e le altre nazioni erano sapevano questa cosa qui ok i figli di Ismaele sapevano di questa cosa qui i figli di Ham sapevano di questa cosa qui e li andava bene perché erano tutti odiosi dei veri israeliti ok vedranno i loro corpi morti lo spazio di tre giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti i monumenti perché non li volevano far sapere la verità li andava bene così non volevano che loro venissero a sapere la verità è quello che vuol dire la e gli abitanti della terra si rallegrano di loro ok erano felici vedere queste cose qui e ne faranno festa e si manderanno presenti gli un uni agli altri perciò che questi due profeti avranno tormentati gli alberanti della terra ok erano contenti che la nostra la nostra la nostra cultura ci è stato tolto la nostra casa è stata saccheggiata perché gli andava bene questo ok perché non volevano sentire la verità quei quei profeti facevano grandi cose se guardate la storia di Elia quando quando ha avuto a che fare con i profeti di Beal ok quando li prendeva in giro e gli diceva di chiamare fuoco sull'altare senza mettere fuoco li ha preso troppo in giro questa cosa ha fatto sempre male agli altri perché sanno che il vero potere ce l'hanno i figli di Israele ok e quella è tutta un'altra storia un'altra lezione in capo di tre giorni e mezzo lo spirito della veità procedente dagli Yahweh entrò in loro e si rialzano in pie e il grande spavento cade sopra quelli che li videro ed è quello che sta succedendo adesso ed è un bel po' che è iniziato a succedere infatti loro hanno speso un sacco di soldi tv media tutte queste cose per non farci sapere la verità delle nostre radici ma più che fanno questo vedono che i veri israeliti si stanno svegliando stanno chiamando il nome del padre Yahweh il nome del suo figlio Yahweh Shai che li è stato preso e mi ricordo uno degli apostoli apostolo gabà che diceva perché loro avevano creato questa scuola ok dove studiavano le scritture e ogni tanto venivano davanti alla scuola questi macchinoni grossi no a quell'epoca e aveva visto una volta una sorta di limousine venire due uomini vestiti bene sì erano caucasi uno che parlava con l'altro tutto arrabbiato ma come cazzo è possibile che loro scoprono questo nome con tutti i soldi che abbiamo speso come è possibile infatti è quello è hanno preso questa verità e nascosto questa verità e quando infatti ecco perché ci bloccano su youtube mi hanno bloccato per una settimana la settimana scorsa mi ha bloccato e non faccio altro che pubblicare la verità le scritture e come fanno tutti gli altri apostoli e altri fratelli della great mi ston ci bloccano ci hanno anche dato i termini ci hanno chiamato dei terroristi grazie che il padre sta con noi ok perciò vedete e in capo di tre giorni e mezzo lo spirito della vita procedente da Yahweh entrò in loro e si rizzarono in pie ok andiamo a vedere una versione più più facile questo sembra di leggere veneziano ma dopo tre giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Yahweh entrò in loro essi si alzarono in piedi e grande spavento cade su quelli che li videro ecco perché vi vogliono mettere qualcosa nel corpo ok v ok per modificare la vostra dna ok così non avrete più questa conoscenza qui questo è il loro scopo ok ed essi udirono una voce potente dal cielo diceva loro salite qua su ok e qui sta parlando proprio sta parlando proprio della fine no essi salirono al cielo infatti qui dopo tre giorni si rialzano in piedi e grandi spaventi perché ce ne sono per aggiungere ce ne sono tanti campi ok dei ebrei israeliti soprattutto della great milestone in tutto il mondo ok ci siamo rialzati perché padre ci ha soffiato lo spirito di vita ok che è la verità ok ecco questo qui vi porta anche di nuovo anche nel libro di Genesi che ho fatto la lezione sul libro di Genesi che quando il padre soffiò nel naso di Adamo era la verità che li metteva dentro ok per capirne di più basta andare a vedere i segreti di Genesi che ho fatto ok ed essi udirono una voce potente dal cielo diceva loro salite qua su essi salirono al cielo in una nube e i loro nebbici li videro ed è questo che succederà tra poco quando verranno i cari del padre a prenderci ok in quell'ora ci fu una grande terremoto e la decima parte della città crollò e 7000 persone furono uccise nel terremoto e questo 7000 è sempre il numero di complezione no non è perché 7000 è il numero di complezione furono uccise nel terremoto e sta parlando di quando cominceranno a cadere le bombe nucleare e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al dio Yahweh del cielo ok il secondo guai è passato ma ecco il terzo guai verrà presto e ricordatevi queste qua di questi guai qui questo guai sta parlando della seconda guerra mondiale il terzo è la terza guerra mondiale ok dice che la terza guerra mondiale verrà presto sentiamo qui poi il settimo angelo poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro signore e al suo unto la parola Cristo è unto ed egli regnerà nei secoli dei secoli ok questo è quando tornerà il figlio del padre Yahweh lui regnerà per sempre ok e tutti questi paesi che ci stanno governando in questo momento tutti i governi grandi di questo regno saranno schiavi nel nuovo regno ad avvenire questa è un'altra lezione da fare ok andiamo avanti e i 24 anziani che siedono sul loro trono davanti a Yahweh si gettarono con la faccia a terra e adorano Yahweh dicendo ti ringraziamo signore Yahweh onnipotente che sei e che eri perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno ed è questo regno che sta per arrivare perciò vi diciamo non c'è nulla nulla che è simile a questo regno questo regno è pace è bellissimo è un regno di giustizia questo regno che stiamo vivendo adesso è una merda perdonate il mio francesismo è davvero una merda perché è degenerata non è un regno è una merda qui i veri figli del padre dovranno essere stufi di questo regno e dovranno pregare affinché il nuovo regno suo possa avvenire ok le nazioni si erano adirate le nazioni si erano adirate ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti di dare il loro premio ai tuoi servi ai profetti ai santi tutti questi sono figli israeli figli di israele se andate a vedere il video che ho fatto riguardo i santi a quelli che temono il tuo nome avete visto a quelli che temono il tuo nome ok il nome del padre non è Dio ok non è Gesù il nome del suo figlio il nome vero del padre è Yahweh il nome del suo figlio è Yahweh Shai ok è il Dio è il potere degli ebrei ok non è un greco come come i pagani dei figli dei malvagi hanno cambiato tutto come vi ho fatto vedere ok perciò vedete vuol dire che noi conosceremo il suo nome ok perché è quello che dice la chiesa oggi che non importa il nome non importa questo ma il nome è molto importante piccoli e grandi e di distruggere quelli che distruggeranno la terra no anzi torno qui a leggere le nazioni si erano agirate ma la sua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti di dare il loro premio ai tuoi servi ai profeti ai santi a quelli che temono il tuo nome piccoli e grandi e di distruggere quelli che distruggono la terra chi sono quelli che distruggono la terra i figli dei malvagi i figli dei saù i caucasù coloro che stanno regnando adesso stanno distruggendo la terra se voi non vedete aprite gli occhi l'acqua è piena di floroli ok per aumentare il vostro glandone pignale ok il cibo è tutto geneticamente modificato in realtà mangiamo merda perdonate il francesismo ok l'aria è inquinata questa gente distruggono la terra ok hanno preso la vera ricchezza che è oro e argento e ci hanno dato delle carte ok che tra poco non serviranno a nulla questi sono i figli dei malvagi che distruggono la terra ok allora il tempio di Yahweh che è in cielo si aprì e nel suo tempio apparve l'arca del suo patto ok l'arca del suo patto sono i navicieli vi furono lampi voci tuoni un terremoto e una forte grandinata ok e la grandinata sono le bombe nucleare come vi ho sempre detto padre non viene a scherzare non viene a scherzare spero che questa lezione vi ha edificato spero che siete riusciti a capire il libro di Apocalisse capitolo 11 Yahweh Hashem Yahweh voglendo faremo capitolo 12 ok detto questo voglio ringraziare il padre Yahweh nel nome di suo figlio il nostro re Nenetore Yahweh e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Musestone per avermi insegnato questa verità qui e come sempre pace Shalom alla casa di Israele Shalom alla prossima